ciao a tutti ragazzi approfittiamo per questo video per fare tanti auguri a tutti di buon natale con questo troppo di mia moglie però approfittiamo appunto di questo video per fare il contest di natale ci divertiamo sai cos'è un contest praticamente chiediamo ai ragazzi che ci guardano di mandarci qualcosa in privato su instagram che adesso dirò che cosa quelli che mi piaceranno di più si vinceranno avranno un regalo da noi di un bel dieci euro di credito psn cioè veramente così miliardone ovviamente giusto per ridere farci due risate e ringraziarvi per per seguirci su youtube su instagram sui vari social come lo mettiamo però il contest andiamo a prendere un poco dell'anno scorso dai allora mi raccomando mandateci sul mio canalista che mi metto in descrizione le fotografie dei giocatori su fifa con i capelli più belli per me ma più brutti per voi un esempio tra tutti chong che appena uscito ragazzi incredibile però c'è magari vuole uscire comunque dicevamo chong è veramente uno di quelli più belli che si possono andare a far vedere ma voglio vedere la vostra fantasia e la vostra ricerca di database su fifa 23 peccato che non ci sei tu perché avresti vinto a mani basse ma qualcuno della francia l'abbiamo visto l'altra sera a zelda vero in della finale quando è entrato il terzino con i capelli un po' tricciolini cappellini a spaghetti esatto qualcuno sicuramente di interessante c'è ma anche nei bronzini ce ne sono qualcuno davvero di carino comunque ragazzi ragazzi le istruzioni sono facilissime mi raccomando in privato su instagram mi mandate queste fotografie poi le raccoglio e tempistica diciamo per l'epifania dai diamo scadenza all'epifania per il termine di questo contest quindi parte da oggi natale ha durata fino all'epifania il 6 e l'ultimo giorno di a gennaio quindi dalle 7 in avanti faccio lo spoglio poi in qualche giorno annuncerò poi i vincitori i ragazzi a cui regalerò i di questi dieci per tre quindi vabbè ci siamo arriverà il post su instagram mi raccomando anche lì magari nei commenti date qualche suggerimento taggate qualche amico facciamo un po di casino che ci divertiamo ragazzi ancora auguri buon natale andiamo a mangiare arriverà sicuramente il video di buon anno ma poi vedremo cosa faremo anche lì arriva anche la nonna che abbiamo più i regali dovevo più i regali perché babbo natale stanotte l'ho sentito arriva non la mamma la sentite già mi pare io stavo guardando alice in borda mentre la gente ci stava ammazzando però va bene così ragazzi ciao a tutti buon natale ciao a tutti